Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Incidente in autostrada, bloccata la corsia sud dell'A14 tra Fano e Marotta Bimbo di due anni rimane chiuso in auto, la mamma chiama i vigili del fuoco Rimosse le roulotte dal parcheggio di via Kennedy per liberarlo intervenuta la polizia locale Due napoletani tentano di vendere un'auto rubata ad un concessionario di Fano, denunciati Questa sera dopo il telegiornale, in prima visione assoluta, gli sbancati due, il film in dialetto fanese e campione di incassi Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Un cordiale saluto, buonasera a tutti cari telespettatori di Fano TV Benvenuti a questo appuntamento con l'informazione locale, Occhio alla Notizia Per gli automobilisti in transito sulla A14, questa mattina è stata una giornata difficile Ci sono stati due incidenti, uno importante, chiusa l'autostrada, subito dopo il casello di Fano in direzione Ancona Cinque mezzi pesanti coinvolti, tre feriti, autostrada chiusa per quattro ore, oltre tre chilometri di mezzi in coda fermi E traffico pesante sulla statale, cinque pattuglie della stradale sul posto e una dozzina di uomini impegnati per gestire una complessa situazione Questo in sintesi il bilancio pesante di una mattinata difficile per il traffico autostradale Fano Marotta in direzione sud Due incidenti diversi, ma collegati tra loro Alle 7.45 di questa mattina si sono verificati al chilometro 176 e 175 dell'A14, due chilometri e mezzo dopo il casello di Fano Tutto inizia alle 7.35 di questa mattina quando un tir per il trasporto di alimenti esce da una piazzola in sosta per immettersi nel flusso del traffico In quel momento sta sopraggiungendo un altro mezzo pesante adibito al trasporto di materiali ferrosi della ditta Sider di Pesaro Che tenta di evitarlo ma urta violentemente la parte posteriore destra del cassone L'urto violentissimo dilania totalmente la cabina del mezzo, fortunatamente però dalla parte del passeggero Aprendola e sparpagliando pezzi di motore per tutta la carreggiata La motrice si intraversa ed il cassone sbatte con violenza contro il New Jersey Scagliando pezzi di cemento anche nella corsia opposta Senza colpire miracolosamente nessun veicolo che sopraggiungeva in quel momento Ma l'auto articolato si intraversa e blocca completamente la corsia sud della 14 A quel punto a 600 metri di distanza il secondo incidente Sono le 7.45 un furgone con cassone proveniente da Pesaro della ditta Girometti Impianti Con due operai a bordo di 34 e 35 anni pesaresi Si accorgono dell'accaduto ed arrestano il furgone Una frenata di emergenza però che mette in difficoltà una bisarca carica di automobili Che sopraggiunge in quell'istante che tenta di schivare il furgone Ma lo colpisce e lo scaraventa in avanti come una pallina impazzita Al centro della corsia dove urta sul fianco un altro tir E finisce la sua corsa tamponando un altro mezzo pesante e fermo davanti a loro Fine della carambola ma sono momenti concitati Sul posto arrivano i primi soccorsi Tre pattuglie della stradale ed una squadra di vigili del fuoco di Fano Che però rientra non essendoci fortunatamente persone da estrarre Arriva anche il 118 e vengono prestati i primi soccorsi All'autista del camion e dei due operai della ditta Girometti Che vengono tutti e tre portati all'ospedale di Fano in codice giallo Inizialmente era stata allertata anche l'eliambulanza Che però non è atterrata dato che i sanitari del 118 hanno valutato le condizioni dei feriti non gravi Sul posto sono arrivate anche altre due pattuglie della stradale Tra cui anche il comandante Colantuono che ha diretto le operazioni Dal casello di Fano in poi si sono formate però subito code Vista anche l'ora di punta Ed i soccorritori dei mezzi speciali entrati a Marotta Sono arrivati sul posto percorrendo contromano la corsia sud della 14 Ripercussioni notevoli anche sulla viabilità ordinaria Su cui si è riversato inevitabilmente tutto il traffico Con la formazione di code lunghissime anche in via dell'aeroporto a Fano La corsia sud dell'autostrada poi è stata riaperta alle 11.30 di questa mattina Le immagini di questo servizio sono il nostro operatore Filippo Pucci E adesso parliamo di una disavventura finita bene per una giovane mamma fanese Questa mattina intorno a mezzogiorno Il suo bambino di due anni è rimasto infatti chiuso dentro l'auto E per riaprirla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco Che hanno dovuto rompere un deflettore e riaprire dunque la portiera La mamma che doveva recarsi in un negozio in via Roma a Fano Aveva lasciato le chiavi nel cruscotto e il bambino dentro l'abitacolo Mentre stava scaricando il passeggino dal portabagagli Il piccolo però inadvertitamente con la mano ha chiuso la sicura e bloccato tutte le portiere Ci sono stati momenti di apprensione ma l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco Che hanno tra l'altro la sede anche a poca distanza dove è accaduto il fatto Hanno risolto la situazione e riconsegnato il piccolo alla mamma Nessuna conseguenza per il bambino che non ha mai pianto E anzi alla vista dei vigili del fuoco spesso sorrideva Momenti di panico invece intorno alle 13 a Montelabatte di Pesaro Per un autocarro Iveco Deili che ha preso fuoco mentre era parcheggiato in via Arena L'autista dell'autocarro aveva da poco fermato il furgone Quando per cause, forse a causa di un guasto meccanico del motore Sono partite le fiamme che hanno avvolto rapidamente il mezzo Preoccupazione anche per la vicinanza del fuoco ad un capannone industriale Che però non è stato coinvolto nell'incendio Grazie anche all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco Il parcheggio di via Kennedy è stato liberato dalle roulotte Che da un po' di tempo stazionavano in quell'area senza autorizzazione Se una zona è degradata, abbandonata a se stessa È più facile che in questo contesto si annidi l'illegalità Pensieri e parole del ministro dell'interno Miniti ribadite anche nella sua visita a Fano Ed espressamente contenute nel suo decreto Dove dà poteri ai sindici per migliorare il decoro delle aree urbane In questa ottica anche Fano sta intensificando controlli e verifiche sul territorio Attraverso la sua polizia municipale Mappando zone a rischio Una di queste dove ripetute verifiche hanno evidenziato situazioni critiche di illegalità E quella del parcheggio di via le Kennedy per la sosta dei camper Questa mattina, poco dopo le 10, due ufficiali ed una pattuglia della polizia locale Coordinati sul posto dal comandante di Quirigo Ha provveduto a ripristinare l'ordine in questa area Rimuovendo forzatamente quattro roulotte e sanzionandone altre otto Tra cui alcuni camper per varie tipologie di reato Due di queste trovate anche sprovviste di assicurazione Nell'operazione andata avanti fino alle prime ore del pomeriggio E' stata coinvolta anche l'ASET Che ha provveduto a rimuovere oggetti fari, copertoni e rifiuti Abbandonati sul posto dagli occupanti delle roulotte Ripristinando la polizia del sito Altri mezzi non in regola perché non agganciati al rimorchio Sono stati invitati dagli agenti ad abbandonare spontaneamente l'area di sosta Liberando così gli stalli a vantaggio di utenti nuovi ed in regola Dal comando della Polizia Municipale fanno sapere che i controlli continueranno E si intensificheranno proprio in concomitanza delle festività dei morti Nei pressi dei cimiteri e dei relativi parcheggi Per contrastare eventuali fenomeni di accattonaggio Sempre frequenti in questi periodi dell'anno E questa mattina una giovane donna si è presentata Nella sede del comando di polizia locale a Fano Per consegnare una borsa appena ritrovata al cimitero centrale Nelle prime ore della mattinata Al suo interno c'erano tutti i documenti Compresa la patente di guida e la somma di 430 euro La proprietaria della borsa, un'anziana signora Fanese di 88 anni È stata rintracciata dagli agenti che poi hanno provveduto a restituirgliela I soldi erano quelli della pensione appena ritirata alla posta Le parole dell'anziana sono state Non sto più nella pelle dalla gioia Due napoletani hanno tentato di vendere un'auto Un'auto rubata ad un concessionario di Fano Che però ha fiutato l'inganno e ha avvertito la polizia Hanno tentato di piazzare un'auto rubata con il telaio contraffatto Ma gli è andata male e sono stati denunciati per riciclaggio Due napoletani, un uomo e una donna di 35-36 anni Due giorni fa si sono recati in una rivendita di auto usate Fanese Intorno all'orario di chiusura E hanno tentato di negoziare la vendita di un SUV Una Renault Captur di fatto nuova Apparentemente intestata la donna Ma che in realtà era stata rubata a Napoli a fine settembre scorso Il proprietario dell'autosalone però si era insospettito Ed ha allertato la polizia giudiziaria della stradale di Pesaro Che dopo alcuni esami tecnici Ha scoperto che l'auto aveva subito numerose alterazioni Tra cui il numero di telaio Per mascherare la sua vera provenienza Gli investigatori di specialità dopo i primi riscontri Hanno così denunciato i due napoletani L'uomo già noto alle forze dell'ordine Per riciclaggio Visti anche i numerosi artifici Messi in opera per mascherare la vettura Ora da parte degli agenti della polizia stradale Sono in corso ulteriori indagini Che potrebbero svelare Nelle prossime ore Altri coinvolgimenti dei due denunciati In simili operazioni A Ponte Sasso Questa mattina L'amministrazione Fanese ha inaugurato Un'opera che era attesa da decenni Sia dagli abitanti che dai commercianti Ovvero il nuovo ponte Cerchietto rosso oggi sul calendario Degli abitanti di Ponte Sasso Dopo anni di tribolazioni Allagamenti Esondazioni Stabilimenti balneari Devastati dalla furia delle acque Oggi finalmente si è scritto Il capitolo finale di questa storia È stato inaugurato il ponte Sul canale del rio Crinaccio Ed il suo nuovo alveo Raddoppiato Ed in grado di contenere In caso di violenti acquazioni La portata dell'acqua Che scende dalle colline Per noi Oltre alla soddisfazione personale Che ci siamo battuti Come gli dico Dagli anni 90 Oggi vedere In una conferenza stampa L'inaugurazione di questa cosa Ci rende felici Nello sviluppo della zona E anche Nel risolvere Grossissimi problemi Io sono uno tra quelli Che nel 2014 Ho avuto danni enormi Dall'indutazione Di forso Crinaccio Quando arrivano Ma non c'è un ragionamento Di come si opera Sono un insieme di opere Quelle inanellate ultimamente In questa parte di città Che una volta ultimate Daranno alla comunità Un volto Ed una dimensione Completamente nuove Problematiche differenti Ma con le quali L'amministrazione seri Si è subito dovuta confrontare A poche settimane Dal suo insediamento Ragionando E pianificavano Le azioni Da mettere in campo Per dare ascolto E venire incontro Alle richieste Degli abitanti Fra l'altro abbiamo fatto Un intervento bello Anche esteticamente parlando Che risolve un problema Attenua fortemente Un pericolo Ma nel suo tempo Tiene conto anche Di altri investimenti Che vogliamo fare L'altro elemento Che mi piace sottolineare In questa zona Della città Come in questi tre anni Non si sono mai visti Tanti interventi Sviluperete anche politiche Per assecondare La vocazione turistica Di questa zona Della città Sì perché non dobbiamo Dimenticare Che questa è la zona Più ricettiva Della città Però ecco Siccome stiamo mettendo mano Alla rivisitazione Del piano regolatore Dove si va a dare A tutta la zona E questa è la vera novità Un'impostazione turistica Quindi significa Che la si va a ripensare Sia in termini organizzativi In termini di investimento In termini strutturali In un'ottica turistica Cercasi nuovo stemma Per il comune Di Colli Al Metauro Nato dalla fusione Dei comuni di Montemaggiore Serungarino e Saltare Il nuovo municipio Ha tra i vari adempimenti Anche quello di dotarsi Di un emblema Che dovrà rappresentarlo Per questo Con una delibera Della giunta comunale Si è formalizzata Anche una collaborazione Con l'istituto Comprensivo statale Giacomo Leopardi Per un concorso di idee Riservato agli alunni Delle scuole secondarie Di primo grado Dell'istituto Proprio per individuare Questo nuovo stemma araldico E quello che sta per iniziare A Sant'Angelo in Vado Sarà l'ultimo fine settimana Per la 54esima mostra nazionale Del tartufo bianco pregiato delle Marche Un appuntamento che ha saputo Convogliare nell'alta valle del Metauro Migliaia di persone Negli scorsi tre fine settimana Con tante iniziative Tra cui gli show cooking E sarà proprio uno Di questi spettacoli In cucina Il protagonista Principale di domani Questa volta però Ai fornelli Non si cimenteranno Chef di professione Ma due sindaci Ovvero il padrone di casa Cioè il sindaco di Sant'Angelo in Vado Gian Alberto Luzzi E quello di Pietralunga Comune Umbro Che dista poco più di 40 km Da Sant'Angelo in Vado Il sindaco è Mirko Ceci A decretare Chi sarà l'amministratore Che avrà cucinato meglio il piatto A base di tartufo Sarà il pubblico Che assisterà allo show Gratuitamente Perché Lo ricordiamo I show cooking Sono Gratuiti Adesso ci fermiamo Per un istante di pubblicità Restate con noi Tra poco Torneremo di nuovo Qui in studio Per la seconda e ultima parte Del telegiornale E per vedere Se ci sono Ultime notizie Allora Non ci sono Ultime notizie Però abbiamo Ancora un po' di tempo Per festeggiare Anzi In realtà Si festeggerà Domenica I 50 anni di matrimonio Dei coniugi Ciacci Alessandro e Anna Di Lucrezia Una coppia meglio conosciuta Come i baristi Del bar sport Di Lucrezia Chiuso ormai Da alcuni anni Per dedicarsi Alla meritata Pensione Auguri Dalla figlia Francesca E poi da Gregorio Vittoria E Virginia E naturalmente Anche da parte Di tutti noi Di Fano TV Allora Adesso Preparate i popcorn Perché sta per arrivare Gli sbancati due Grazie per averci seguito Ave tutti gli auguri Di una buona serata Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito Grazie per averci seguito